ciao ragazzi e bentornati a un nuovo video tutorial su photoshop per la fotografia digitale oggi con questo video vi spiegherò come andare a rimuovere la parte esterna della mia foto in modo da andare a estendere appunto il set il fondale è stata la prima volta che proviamo a usare un set del genere abbiamo comprato della carta d'apparati colorata come questa in un semplice negozio di bricolage al costo di 6 euro e qualcosa mi sembra ed è un rotolo da 10 metri per 50 centimetri di larghezza quindi abbiamo dovuto tagliarlo e incollarlo con lo scotch ora non abbiamo fatto un lavoro proprio perfetto anche perché non avevamo abbastanza tempo è stata una cosa così improvvisata tanto per provare a vedere cosa veniva fuori e infatti si può vedere che si notano le linee in cui è stato unito il set e usando un obiettivo grandangolare come ho fatto io non era abbastanza grande quindi ora vi spiegherò come andare a estendere il nostro fondale in maniera molto semplice ci sono due modi per farlo un modo è andare a riempire in base al contenuto l'esterno del fondale un modo è tirare il fondale ora vi farò vedere entrambi parto dal metodo del dell'andare a riempire in base al contenuto semplicemente premo contro il g per duplicare il mio sfondo e vado a prendere lo strumento lazio se non l'avete selezionato basta premere la l fino a che non vi appare e vado a selezionare all'esterno all'interno della foto non è importante basta andare a tagliare le parti che vogliamo noi potete usare anche non lo strumento lazio potete usare anche qualsiasi altro strumento ok premo il tasto destro e faccio riempi a contenuto riempio in base al contenuto un metodo normale opacità 100 per cento e premo ok ora in base alla grandezza della foto in base alla dimensione quindi in base al che profilo stiamo usando io per esempio sto usando un profoto a 16 bit o anche in base alla quantità dell'area selezionata ci metterà parecchio e il 90 per cento delle volte verrà fuori una schifezza quindi preparatevi preparatevi a vedere piedi o teste a giro per questa parte dell'immagine io vi ho avvertito magicamente incredibile non mi ha messo piedi mani teste ovunque e vi giuro che se ci provo altre 10 volte a fare riempi in base al contenuto non verrà mai fuori una cosa del genere dipende bisogna avere anche un po culo e vado a togliere la selezione ctrl d e devo dire che non ha fatto un pessimo lavoro a parte il fatto che sopra fa schifo però per il resto è venuto abbastanza bene devo dire molto meglio ma negli angoli ancora non ci siamo quindi vado a farvi vedere un altro metodo ovviamente entrambi i metodi che vi vado a illustrare funzionano meglio con uno sfondo uniforme infatti non avremo queste diversità di colori qui che sono date dal fatto che avevamo questo softbox che illuminava quest'area qui del nostro set rendendo ovviamente scure gli esterni del del nostro 7 quindi vado a fare un altro metodo che secondo me è ancora molto più semplice di questo vado quindi un'altra volta a duplicare lo sfondo della mia immagine prendo prendo lo strumento selezione rettangolare e vado a selezionare questa parte qui della foto stando attento a non selezionare nel mio soggetto nelle esterni della foto in questo modo ok premo control j in modo da avere questo rettangolino qui e lo tiro su semplicemente con gli strumenti di trasformazione e premo invio in questo modo cosa ho fatto tirato su la parte superiore del set andando a coprire la parte sopra appunto vado a premere control e selezionando questo livello in modo da unire questi due livelli qui e ora vado a fare la stessa cosa per la parte sinistra quindi vado a selezionare da qui potrei farlo fino in fondo a dire il vero ma visto che ho già una parte di set qui mi sarebbe piaciuto tenerlo proviamo a fare questa parte qui comunque control j e vado a tirare verso sinistra queste cose qui le sistemeremo dopo ora con la parte destra un po un casino perché non abbiamo abbastanza spazio tra la modella e il il nostro set quindi vado innanzitutto a fare contro le per unire questi due livelli faccio la stessa cosa con la parte superiore quindi con questa parte qui fino a qua e perché sotto non posso contro j per duplicare prendo lo strumento trasforma e porto verso destra ok contro e per unire e poi prendo lo strumento lazo e vado a selezionare questa parte che mi è rimasta fuori tasto destro tasto destro tasto destro riempi in base al contenuto e diciamo che è venuto fuori un quasi ottimo lavoro ovviamente voi che avete visto l'immagine iniziale si vede che la parte sinistra della foto è stata tirata è anche abbastanza devo dire ma chi non ha mai visto la foto originale non se ne accorgerà più di tanto ora io vado a prendere lo strumento timbro clone per andare a correggere dei dettagli che non mi piacciono quindi vado a creare un nuovo livello bianco cliccando su questa icona qui e prendo lo strumento timbro clone lo strumento timbro clone per chi non lo sapesse è uno strumento molto potente e molto utile per chi usa photoshop soprattutto per i fotografi e per i graphic designer ed è uno strumento che va saputo usare allora come funziona l'ho già spiegato in diversi tutorial basta fare alt clic su una qualsiasi parte della nostra immagine e magicamente possiamo clonarla in qualsiasi altra parte per quello si chiama timbro clone io di solito tengo l'opacità e il flusso al 100% con metodo su normale e vado a campionare ovviamente tutti i livelli non solo quello attuale perché è un livello vuoto questo in modo da avere i colori e le texture dai livelli sotto al mio senza andarli a distruggere quindi prendo lo strumento timbro clone e faccio alt clic su questa parte dell'immagine e vado a togliere questa riga qui che non si può vedere ok diminuisco le dimensioni del pennello in base all'utilizzo che ne faccio alt clic qui alt clic qui ora io non sto facendo per niente preciso perché sto tirando abbastanza via ok in questo momento la durezza è lo 0% ok a dire il vero potevamo usare anche lo strumento di correzione al volo questo qui pennello correttivo al volo ok sotto alt clic vicino alla mia riga ok avendo la sedia è molto facile utilizzare lo strumento timbro clone perché basta selezionare questa parte qui e andare a collocare proprio la parte sulla sedia e andare semplicemente a colorare stessa cosa sopra stessa cosa sotto ok vedete qui sopra qui sotto semplicemente in questo modo e vado fino in fondo ok vediamo un po cosa è venuto fuori c'è qualcos'altro che non mi piace ovvero questa parte qui della foto che è stata creata con lo strumento riempi non mi piace questa parte diversamente colorata non perché sia razzista ma perché non si può vedere ok basta così tanto è solo per farvi vedere come funziona e in alto a destra anche che mi sono dimenticato a regola di portare qualcosa guardiamo un po allora diciamo che è venuto un ottimo risultato rispetto alla parte iniziale della nostra foto qui si vede ancora un po troppo la linea di demarcazione ma ovviamente dipende dal tempo che avete da dedicarci potete usare quindi lo strumento riempi in base al contenuto oppure creare dei quadratini con lo strumento selezione rettangolare e andarli a tirare in base a come preferite voi ovviamente come ho detto prima viene meglio con uno sfondo uniforme infatti se questo sfondo fosse stato di un colore uniforme non colorato come questo non avremmo questo effetto tirato qui non ci sarebbe stato perché appunto sarebbe stato uniforme è venuto comunque un ottimo lavoro rispetto alla parte iniziale ho detto e con un po di tempo sarebbe ancora più perfetto ora se volete vedere tutte le foto relative a questo photo shoot le potete trovare seguendo il link in descrizione del mio video potete vedere non questa foto perché non penso che la caricherò perché non è che mi piaccia abbastanza ma le altre potete vedere sul mio account che trovate appunto nella descrizione del video come ultima cosa possiamo andare a creare un po di vignettatura pertanto per nascondere un po gli angoli ctrl maiuscolo alt e per creare un'unione di tutti i nostri livelli filtro filtro camera raw che ricordo è disponibile soltanto per photoshop cc chi non ha photoshop cc e che fa si attacca no può semplicemente aprire la foto in camera raw attraverso bridge oppure da file apri come vado su vignettatura quindi fx aggiungo la vignettatura di solito quando aggiungo la vignettatura tengo sempre superiore della luce e porto la sfumatura zero tanto per vedere dove è che andrò a mettere la vignettatura e quanto sarà scura per esempio se io metto se io metto meno 35 34 un po meno rotonda e porto il punto verso l'esterno e poi vado a sfumare in questo modo so precisamente dov'è il punto medio della mia vignettatura posso anche andare attraverso hsl scala di grigia aumentare un pochino il blu vado quindi su saturazione ci sono di già e aumento il blu di un pochino 13 e magari posso anche diminuire gialli gli arancioni un pochino ok ok questo è il mio risultato finale questo è il mio risultato precedente senza vignettatura e con meno blu questa è la foto iniziale e questo ma chi se ne frega grazie e questo invece il mio file finale io sono nicolò spero che vi sia davvero stato d'aiuto questo tutorial e abbiate imparato qualcosa se volete vedere appunto le altre mie foto basta cliccare sul link in descrizione del video grazie per avermi seguito e arrivederci al prossimo video tutorial ciao ragazzi ciao